La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un provvedimento cautelare di natura personale agli arresti domiciliari presso il GIP di Milano, su richiesta dalla locale Direzione Distrittuale Antimafia nei confronti di un soggetto di origini calabresi e residente in provincia di Milano, ritenuto gravemente indiziato dal reato di trasferimento fraudolento di beni e valori. Il sequestro preventivo di quattro complessi aziendali, con volumi di affari conseguiti nell'ultimo anno per oltre 8 milioni di euro, e poi numerosi beni mobili, strumentali, immobili e conti correnti per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro. Le indagini hanno consentito di ricostruire un reticolo societario operativo nel settore delle cave, del trasporto e dello stoccaggio dei materiali inerti e di rifiuti da demolizione, formalmente gestito da prestanome ma nei fatti diretto unicamente dal soggetto colpito dal provvedimento cautelare nei confronti del quale sono stati così raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di trasferimento fraudolento di beni e valori. Le attività investigative hanno messo in luce come proprio grazie alla copertura fornita gli dal prestanome, l'indagato, peraltro già in passato condannati per traffico di stupefacenti e di associazione mafiosa, abbia potuto operare anche quale subappaltatore e subfornitore aggirando la normativa antimafia del settore. L'operazione coordinata alla DDA del capoluogo Lombardo ha assunto un aspetto di rilievo poiché testimone l'impegno profuso dalla DIA al contrasto dell'infiltrazione criminale nell'economia legale.